Un'università non è soltanto un luogo di ricerca e di insegnamento, di istruzione, ma è molto di più. È la libertà di pensiero che si manifesta soprattutto anche in questi luoghi, nei luoghi accademici universitari. Perciò l'università è anche quel luogo dove la società viene seguita con critica, con le idee, ma anche con le proposte che possono portare avanti la nostra società in un spirito liberale, ma soprattutto anche solidale.